La campionaria, grande rassegna della produzione, è anche il regno della più moderna e dinamica fra le arti, quella pubblicitaria, che è sempre alla ricerca di nuove trovate per attirare l'attenzione dell'acquirente. Questa è l'originale reclame, escogitata da una grande fabbrica nazionale di dolciumi. La campionaria, grande rassegna della produzione. La campionaria, grande rassegna della produzione.